Musica Ospedale di Polla, il direttore sanitario Rissi de Tortora parla delle recenti polemiche in merito ai tempi di attesa per effettuare gli esami Città-Vallo, incontro dei sindacati per dire sì al comune unico Vallo di Viano particolare attenzione dei giovani all'iniziativa Sassano, l'associazione attivamente avvia la raccolta giocattoli nuovi e usati Sant'Arsenio, sabato 13 all'Istituto Sacco, incontro su alimenti della nostra terra Ate da Lucana Scalo, ieri l'inaugurazione della terza edizione del mercatino di Natale al Magic Hotel A tutti un buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Uno News Apriamo il nostro giornale con una notizia di sanità Nei giorni scorsi ci sono state polemiche da parte di un gruppo di cittadini che si sono lamentati sui tempi di attesa per le visite all'ospedale di Polla Sul caso è intervenuto direttamente il direttore sanitario Aristide Tortora il quale ha detto che questo non è un problema tipico dell'ospedale di Polla e invita i cittadini a critiche costruttive e a segnalare questi casi direttamente alla direzione sanitaria dell'ospedale Ascoltiamolo con questa intervista che ha raccolto per noi Anna Cava Il mio commento è che innanzitutto ringraziamo tutti i cittadini che pur aderendo a canali quali la stampa quindi non proprio corretti segnalano disservizi noi ci attiviamo immediatamente per risolvere i disservizi Potrei celarmi dietro il conflitto di competenze perché l'ospedale fa ricoveri per acuti aggravi non fa prestazioni ambulatoriali per diagnostica Non mi celo dietro questo conflitto di competenze perché l'ASL è unica e nell'emore di una migliore e maggiore integrazione ospedale-territorio ho già immediatamente disposto un incremento orario di uno specialista per riprendere e far effettuare un maggior numero di prenotazioni di ecografie per i tronchi sopraortici Mi colpisce però una cosa, la devo dire non dobbiamo lanciare ai cittadini messaggi sbagliati messaggi di sfiducia nella sanità su questo territorio perché c'è una discrepanza quando le cose negli anni non hanno funzionato e si sono messe le condizioni affinché funzionassero male nessuno ha parlato oggi invece che c'è un incremento reale numerico con tanti di nome e cognome di personale medico in questo ospedale viene fuori l'articolo che ci vogliono 5 mesi per un ecodopler detto tronchi sopraortici preciso per i non addetti lavori che l'ecodopler dei tronchi sopraortici non è una prestazione urgente e immediata è un esame diagnostico chiesta da un medico di base medico di base che avrà avuto i suoi motivi legittimi spero per fare questo tipo di richiesta e guarda caso capita questa protesta nel mese di dicembre quando i centri convenzionati avendo esaurito il budget praticamente richiedono il pagamento della prestazione e l'intervista integrale realizzata con il direttore sanitario dell'ospedale di Polla risiede Tortora andrà in onda integralmente alla fine di questo telegiornale andiamo avanti con una notizia di cronaca che arriva da Agropoli operazione anti evasione la guardia di finanza ha infatti confiscato beni per un valore di 5,6 milioni di euro a due fratelli già titolari di istituti scolastici paritari ad Agropoli laureana Cilento e Ceraso giudicati evasori fiscali abituali il procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania Giancarlo Grippo e il suo sostituto Alfredo Greco che hanno con punto coordinato le indagini hanno eseguito la confisca disposta dal Tribunale di Salerno su numerosi beni immobili veicoli e disponibilità finanziarie a loro intestate andiamo ancora avanti andiamo a Sassano i giovani dell'associazione attivamente Onlus di Sassano di Silla di Sassano hanno avviato una nuova importante iniziativa solidale che consiste nella raccolta di giocattoli nuovi e usati che poi regaleranno ai bambini delle famiglie indigenti nel periodo dell'epifania seguiamo quindi i dettagli di questa iniziativa l'odevole iniziativa di solidarietà nel Vallo di Diano l'associazione attivamente Onlus di Silla di Sassano diretta da Valentino Di Brizzi ha infatti avviato la raccolta dei giocattoli nuovi ma anche usati che verranno poi donati ai bambini meno fortunati nel periodo dell'epifania ne abbiamo parlato con Franco Pizzi componente del direttivo giovani dell'associazione attivamente l'associazione attivamente Onlus Giovani praticamente si propone di raccogliere giocattoli nuovi e usati per donarli a bambini che appartengono a famiglie che hanno disagi economici stiamo allestendo del gazebo presso tutte le piazze dei paesi del Vallo di Diano dove appunto potranno essere raccolti questi giocattoli nuovi e usati perché crediamo come associazione che oggetti vecchi mediante qualche modifica possono diventare dei nuovi compagni di giochi per quanto riguarda i bambini abbiamo altre iniziative che man mano dopo le festività metteremo in atto e si tratta appunto di iniziative sempre a scopo umanitario Onlus innanzitutto penso che questa iniziativa debba arrivare a famiglie che sono economicamente disagiate e il punto iniziale è che le feste natalizie devono contribuire a far sì che il Natale sia più bello per tutti diamo un contatto Allora se volete potete contattare Daniele il numero è 392 44 44 000 dove appunto potranno i giocattoli potranno essere raccolti o presso la nostra sede di Attivamente Onlus oppure potrete chiamare a questo numero e verremo noi a ritirarli di persona L'associazione è diretta da Valentino Di Brizzi che dà anche molta fiducia a voi giovani Sì ne sono contento e siamo consapevoli di questa fiducia dataci e quindi faremo del nostro meglio Il primo gazebo per la raccolta dei giocattoli verrà allestito domani domenica 7 dicembre a Teggiano in piazza San Cono a partire dalle 10 I sindacati nei giorni scorsi hanno incontrato la cittadinanza del Vado di Diano per dire sì alla comune unico Vallo di Diano L'incontro ha visto presenti molti giovani ed in pirima linea il comitato giovani di Teggiano pro città Vallo che da diverso tempo sono impegnati per trasmettere alla popolazione le motivazioni che spingono verso la realizzazione di un comune unico nel corso del convegno tutte le sigle sindacali hanno espresso appunto il proprio sì all'iniziativa presente all'incontro anche Carmelo Buffano primo firmatario della proposta di legge e appunto vediamo come è andato l'incontro dalle parole dei sindacati quando si parla di giovani si parla di futuro e quindi noi proprio come ragazzi abbiamo aderito a questo grande progetto della città Vallo in primis diciamo con la raccolta firme che c'è stata negli scorsi mesi e poi con le varie attività che stanno man mano portando alla concretizzazione della proposta bello avere tanti giovani che si interessano della città Vallo di Diana cosa che non sempre atteggiano purtroppo gli adulti hanno fatto sì purtroppo c'è una carenza da questo punto di vista che diciamo vogliamo invogliare a far risolvere è un discorso importante è un discorso che si fa da un sacco di mesi in questo territorio grazie all'impegno di Carmelo Buffano che con grande attenzione sta portando avanti questo discorso tra i vari comuni sta raccogliendo anche dei consensi importanti da parte dei comuni siamo anche noi qua stasera per testimoniare essenzialmente la volontà di aprire un dibattito che sia al massimo costruttivo un dibattito che possa portare sicuramente a quelli che sono sempre i soliti valori che noi come banca portiamo avanti quindi la coesione la vicinanza al territorio la crescita e lo sviluppo immaginiamo che questo possa essere sicuramente un altro elemento importante da aggiungere a questo territorio quindi lo ascoltiamo partecipiamo e cerchiamo logicamente di dare anche il nostro piccolo contributo alla iniziativa di Carmelo Buffano questo è un mese importante perché significa veramente segnalare una data storica e tenendo conto anche dei cinque mesi prima delle elezioni considerato che a maggio si vuole la gratificazione è che questa sera questo incontro è stato fortemente voluto e dalle sigle sindacali ma soprattutto dai giovani che hanno in tanti modi aiutato questa proposta di legge dopo un'attente riflessione all'interno della nostra organizzazione visto quello che è successo negli ultimi anni che questo territorio è stato abbandonato totalmente a se stesso basta pensare non voglio andare molto faccio giusto una piccola riflessione sul passato le ferrovie tolte e andate via il tribunale tolto e andate via nel 95 ci hanno tolto nel giro di 24 ore la sede dell'ex Asle Salerno 3 che toccava a noi e ancora oggi viviamo il depotenziamento della sanità e di tutti i servizi in questo territorio vogliamo un comune unico perché qui nel nostro territorio non c'è la combattezza di tutte le istituzioni ognuno pensa alle cose proprie sono tutti bravi a dirlo di la verità siamo favorevoli a una discussione di livello generale perché il sindacato e la funzione pubblica rappresenta i cittadini e anche i servizi pubblici stiamo parlando di un'area che si estende in modo forte 19-18 comuni messi insieme hanno poi un potere anche politico contrattuale diverso anche un potere economico che si può investire anche sugli aspetti della questione della sanità i parlamentari europei del Movimento 5 Stelle a favore della tutela dei prodotti tipici campani si è tenuto infatti in questi giorni a Bruxelles un convegno organizzato dalla salernitana grillina Isabella Adinolfi sul tema tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche campane facendo particolarmente riferimento alle aree protette dei picentini del Vallo di Diano e alla Piana del Siele con l'obiettivo di favorire la competitività delle nostre realtà imprenditoriali sul mercato europeo andiamo avanti nei prossimi giorni una delegazione di Monte San Giacomo guidata dal sindaco Raffaele Accetta raggiungerà la Germania per partecipare alle manifestazioni in programma per il trentennale della Costituzione dell'Associazione San Giacomesi nel mondo un momento di particolare importanza per la comunità che rinsalda ancora una volta l'unione e il legame con le origini ma soprattutto perché la visita rende merito ad un'associazione che dalla sua Costituzione ha riunito tutti i concittadini che hanno lasciato il proprio paese alla ricerca di opportunità lavorative migliori trasferendosi appunto in altre parti del mondo l'associazione attenderà i San Giacomesi che arriveranno da ogni parte del mondo per festeggiare l'importante traguardo Pietro Cusate ne ha parlato con il sindaco Raffaele Accetta che si sofferma appunto su questa iniziativa sentiamo è sicuramente un evento ormai per Monte San Giacomo questo raduno che si tiene da sei anni a dire verità in Svizzera è Romanzorn è una località sul lago di Costanza che è di fronte a un'altra zona dove ci sono i nostri concittadini Friedrichshafen che è in Germania e quindi sì siamo in partenza perché anche quest'anno si tiene questo incontro a Romanzorn molto partecipato nel senso che di anno in anno insomma è cresciuta la partecipazione dei nostri concittadini a questo incontro ed è un modo anche non solo per farci gli auguri per Natale ma per incontrare i nostri amici e concittadini che stanno all'estero perché si radunano e vengono dalla Germania dall'Austria e da altre località della Svizzera e quindi è un modo per consolidare sempre di più il nostro rapporto di amicizia di fratellanza di unione perché poi insomma ci sono anche i rapporti familiari con tutti quelli che stanno all'estero ed è un modo soprattutto per celebrare al meglio il trentesimo anniversario della Costituzione del Comitato San Giacomisi nel mondo un comitato che si è appunto costituito trent'anni fa e che ha visto poi in questi trent'anni tante occasioni di incontro che noi abbiamo fatto nelle varie zone della diciamo disseminate in Europa in Svizzera in particolar modo in Germania in Austria che poi ci ha portato ad andare anche all'estero e quindi c'è oltreoceano e quindi negli Stati Uniti e in Brasile infatti quest'anno avremo anche qualche rappresentanza degli Stati Uniti che parteciperà a questo incontro in Svizzera ieri sera a Sant'Arsenio presso la sede della banca Montepruno è stata inaugurata la mostra d'arte dell'artista di Sassano Pasquale Corvino la mostra resterà in allestimento fino al prossimo 6 gennaio e sarà visitabile negli orari di apertura della banca vediamo presso la banca Montepruno è stato avviato un nuovo appuntamento culturale con l'inaugurazione della mostra d'arte pittorica dell'artista Pasquale Corvino di Sassano presso la sala esposizione dell'istituto di credito a Sant'Arsenio la mostra resterà in allestimento fino al prossimo 6 gennaio e sarà visitabile durante gli orari di apertura della banca ieri sera prima dell'inaugurazione si è tenuto un incontro di presentazione con il direttore generale della banca Montepruno Michele Albanese che ha spiegato le ragioni che hanno spinto l'istituto di credito a realizzare la mostra sottolineando come le opere di Pasquale Corvino che sono parte integrante dell'arredamento della nuova sede di potenza risultino particolarmente apprezzate dai clienti della banca che restano piacevolmente colpiti all'incontro moderato da Antonio Mastrandrea responsabile comunicazione della banca Montepruno erano presenti oltre all'artista anche responsabili dell'organizzazione della banca Cono Federico l'assessore del comune di Sassano Mario Trotta e Antonella Nigro critico d'arte che ha sinteticamente ma con estrema puntualità spiegata l'interpretazione delle opere in allestimento dalla scelta dei colori alla tecnica usata soffermandosi anche nella comprensione di quelle che sono le emozioni di Pasquale Corvino la nostra area è periferica rispetto ai grandi centri però non è detto che solo perché siamo periferici il talento non ci sia e la mostra che inauguriamo questa sera in realtà vuole proprio far emergere il talento di Corvino quindi un talento in questo caso nell'arte e nella pittura noi abbiamo i mezzi abbiamo la struttura per poter far conoscere le opere appunto che l'artista Corvino ha fatto e ci sembrava doveroso impegnarci appunto per scoprire e valorizzare i talenti ovviamente non solo nel campo della pittura come questa sera ma anche in tanti altri campi appunto una lungimiranza del Consiglio e della Direzione Generale quando è stata creata appunto questa nuova sede abbiamo sottratto diciamo degli spazi anche ad uffici degli spazi lavorativi per creare un luogo in cui poter mettere in mostro appunto opere d'arte ma non solo anche attività anche scientifiche prossimamente tracci di me non vuole essere altro che un segnale espresso in maniera differente per ogni tela quindi dei segni che vanno a sublimare il bianco con delle tonalità pop uso molti colori che non sono i classici oli per come si può capire ma sono dei colori che mescolano tra di loro per avere accarezzare economie differenti nulla quando vado a sublimare il bianco il bianco ho sempre dentro di me un bing bang creativo che mi spinge voglio dire a proiettarmi oltre quella che è la singola tela cruda si chiama alimenti della nostra terra ed è l'evento organizzato dai comuni di Sant'Arsenio San Pietro Altanagro e San Rufo che si terrà sabato 13 dicembre all'istituto Sacco di Sant'Arsenio mentre gli agricoltori locali del Vallo di Diano esporranno i propri prodotti si terranno in contemporanea dei convegni con nutrizionisti medici e ricercatori che parleranno dell'importanza del cibo come medicina vediamo nell'arco dell'intera giornata del 13 dicembre sabato prossimo all'istituto Sacco di Sant'Arsenio si terranno più incontri fino alle ore 18 in cui gli agricoltori del Vallo di Diano esporranno i propri prodotti un evento alimenti della nostra terra organizzato dai comuni di Sant'Arsenio San Rufo e San Pietro Altanagro il cibo nutre cura guarisce il cibo come medicina è questo il filo conduttore dell'evento che vedrà insieme l'intervento di dietologi nutrizionisti ristoratori geologi docenti universitari ed esponenti politici ci saranno inoltre chef ed albergatori che parleranno dell'importanza delle materie prime provenienti dalla lavorazione biologica e dei principali ingredienti della dieta mediterranea all'incontro saranno presenti anche gli alunni dell'istituto di ragioneria di Sant'Arsenio dell'istituto Leto di Teggiano nonché quelli dell'istituto agrario e per geometria di Sala Consilina Ora c'è la pubblicità ma restate con noi perché ci sono molti eventi natalizi a tra poco A tutti ben ritrovati andiamo avanti con le nostre notizie è stato inaugurato ieri sera il mercatino di Natale giunto alla sua terza edizione e organizzato dal Magic Hotel in collaborazione con la Banca Montepruno quest'anno il mercatino coperto con una struttura in legno garantisce la partecipazione anche in caso di pioggia e resterà in allestimento fino al prossimo 14 dicembre con una serie di eventi vediamo ieri sera l'inaugurazione della terza edizione del mercatino di Natale ad Atena Lucana organizzata dal Magic Hotel della famiglia Marino grazie alla collaborazione della Banca Montepruno che peraltro anche quest'anno ha contribuito alle spese per l'allestimento degli stand circa 30 standisti presenti a questa terza edizione realizzata nel piazzale retrostante il Magic Hotel con ampio parcheggio e una struttura coperta che lascia in tatto lo spirito natalizio appena si entra nel mercatino di Natale sembra di trovarsi in un altro luogo tra musica natalizia le suggestioni dei colori create da tanti e variegati prodotti in esposizione con gli stand perfettamente allestiti e la baita Ristoro dove è possibile scegliere tantissime specialità tipiche del periodo natalizio da degustare comodamente seduti e tavolini adiacenti o su comode poltroncine il mercatino di Natale su cui punta il Magic Hotel e la Banca Montepruno oltre a ricreare la magica atmosfera del Natale riprendendo le tradizioni della Germania vuole anche contribuire ad un rilancio economico degli artigiani dei produttori agroalimentari commercianti e piccoli imprenditori del territorio che con l'occasione possono nel contempo scegliere tra una vasta gamma di offerte i regali per il Natale prezzi convenienti e tantissime idee regalo originali e di sicuro gradimento ceramiche oggettistiche ma anche specialità gastronomiche tipiche locali ad arricchire ulteriormente l'edizione 2014 del mercatino di Natale ci saranno anche diversi eventi organizzati dal Magic Hotel con serate a tema si partirà già questa sera con la notte bianca del San Nicola's Party e poi a seguire una serie di appuntamenti imperdibili che arricchiranno ulteriormente le serate del mercatino di Natale immancabile è la mostra presepiale centro studi e ricerche del presepe napoletano che resterà in allestimento fino a lunedì 8 dicembre sono inoltre previsti ulteriori appuntamenti culturali ma anche strettamente legati al periodo natalizio come la tombolata del 12 dicembre la terza edizione del mercatino di Natale al Magic Hotel si concluderà domenica 14 dicembre e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 22 e 30 e nei giorni festivi dalle 10 del mattino alle 22 e 30 ed ora ascoltiamo le interviste agli organizzatori del mercatino di Natale del Magic Hotel si coperto perché così anche in caso di pioggia ecco la gente ha la possibilità di godersi il mercatino e quindi tutti gli espositori e ecco poi tante novità oltre ad essere coperto faremo delle serate delle notti bianche il sabato sera con musica dal vivo degustazione di prodotti tipici locali ma non solo ovviamente anche del Trentino quindi dalla Polenta allo Speck e quant'altro birra tedesca anche nel mercatino quest'anno quindi birra natalizia dalle botti a caduta a Santa Lucia in più tombolata di beneficenza che si terrà a giorno 12 abbiamo Babbo Natale quindi la casa di Babbo Natale è Babbo Natale che aspetta i bambini tutte le sere qui al mercatino l'apertura è dalle 5 il pomeriggio alle 10 e mezza di sera nei giorni festivi e quindi la domenica l'immacolata anche la mattina a mia sorella venne questa idea tre anni fa di ricreare questa atmosfera natalizia nel Vallo di Diano per far vivere ai cittadini del Vallo di Diano e non solo il clima lo spirito e l'amore natalizio che magari si prova nei paesi nordici e far sì che anche il commercio del Vallo si possa smuovere un po' con l'artigianato magari qui nei mercatini di Natale ad Atena Lucano beh sì siamo alla terza edizione e alla terza presenza della nostra banca a questa meravigliosa manifestazione che quest'anno si arricchisce proprio di queste caratteristiche cioè vedere degli artigiani vedere proprio degli stand importanti proprio perché sono differenti sono differenti dal punto di vista commerciale e fanno respirare proprio quell'area natalizia di cui tutti quanti abbiamo bisogno Colombina ha fatto di tutto affinché questa manifestazione crescesse ci è riuscita al Magic al suo staff ma soprattutto a chi ci ha lavorato veramente va il nostro grazie perché non è facile trovare nel nostro valo di Diano un mercatino come questo perché è curato nei minimi particolari io così notavo addirittura la wifi gratuita chi è che pensa la wifi gratuita in un ambiente così carino significa che sono stati curati tutti i particolari ed è importante per questo ritroviamo molti clienti nostri ai quali abbiamo anche dato il nostro supporto diamo un contributo a tutti i nostri clienti per lo stand e quindi è importante la presenza nostra sicuramente ma che serve soprattutto a far crescere i nostri imprenditori ma già l'ha detto lei la terza edizione che si è andata migliorando negli anni è chiaro che va ringraziata l'impegno di Colomba che ha esportato dal nord questa tradizione dei mercati natalizzi trasformandoli adeguando ai nostri costumi è chiaro che è una cassa di risonanza è un'occasione anche per gli imprenditori per gli imprenditori del posto che possono far conoscere i loro prodotti i nostri usi e i nostri costumi si chiama Domenica al Museo ed è l'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali che premette la prima domenica di ogni mese di entrare e di visitare gratuitamente aree museali e archeologiche l'iniziativa naturalmente investe anche il ballo di Diano con la sua Certosa di San Lorenzo a Padula che resterà aperta da domani mattina alle 9 fino alle 19 andiamo ancora avanti con un'altra notizia di eventi Sant'Arsenio si prepara al gran concerto d'autunno l'evento musicale con i brani a cappella si terrà domenica prossima 14 dicembre alle ore 18 al Teatro Amabile l'iniziativa è promossa dall'Associazione Amici della Musica e vedrà protagonista il coro pop dell'Università di Salerno diretto dal noto Ciro Caravano dei Neri per Caso vediamo il servizio domenica prossima 14 dicembre si terrà a Sant'Arsenio il gran concerto d'autunno spettacolo con brani a cappella eseguiti dal coro pop dell'Università di Salerno l'evento si terrà alle ore 18 al Teatro Amabile il coro composto da un'orchestra completamente vocale è diretta da Ciro Caravano dei Neri per Caso l'iniziativa promossa dall'Associazione Amici della Musica di Sant'Arsenio diretta da Antonella Pepe vede la partecipazione straordinaria anche di docenti universitari della Facoltà di Farmacia e di Informatica e anche di personale addetto della Segreteria dell'Università di Salerno uno spettacolo musicale di un'ora in perfetto stile gospel stile che contraddistingue il gruppo dei Neri per Caso da cui proviene l'esperienza artistica di Ciro Caravano L'evento è in collaborazione con il Comune di Sant'Arsenio la Banca Montepruno l'Unipol Assicurazioni la Conad e Cersol È tutto grazie per essere stati con noi prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.45 a tutti una buona giornata Grazie a tutti